A settembre i bambini varcheranno la soglia dopo ben sei anni di questo MUSP, modulo ad uso scolastico provvisorio, ma almeno troveranno un po' di colore ad attenderli e un bel parco urbano all'esterno della loro scuola. È l'iniziativa partita oggi dal MUSP di Sassa grazie al progetto SOS Scuola realizzato dal Veare per il Sociale, da Viviamo la Q, Action Aid e la commissione oltre il MUSP, bambini, genitori ed insegnanti armati di rastrello, pennelli e colori per rendere la struttura che li ospita più a misura di bambino. Questa iniziativa che è patrocinata adesso S. Scuola al Veare per il Sociale è al suo quarto campo in Italia. Abbiamo cominciato l'anno scorso da Palermo, abbiamo riqualificato il liceo Ninni Cassarà e ci sono gli studenti di questa esperienza qui con noi quest'anno all'Aquila e quest'anno faremo un progetto partecipato con Viviamo la Q e Action Aid. Insieme daremo un parco urbano qui alla comunità di Sassa. Anche se non è una nuova scuola sarà più colorata, più vivibile e migliore di quello che era. Chiaramente aspettando la nuova scuola, non a caso questo è uno dei plessi interessati alla ricostruzione e a quello che è il laboratorio di architettura partecipata che è nato insieme a Viviamo la Q e proprio qualche giorno fa e quindi per noi è anche un primo passo, un primo passo per costruire una scuola nuova e sperando che quella vera poi arrivi presto. Da oggi e per sei giorni si pianteranno alberi, coloreranno pareti, si decorerà la scuola ma non solo, ci saranno anche dei laboratori creativi per i più piccoli, i destinatari principali di questo progetto. È un progetto di colore sostanzialmente, colore inteso non solo come il colore giallo, verde e rosso ma il colore come senso di partecipazione. Nasce proprio da da questo senso di attività collettiva lo spirito che abbiamo messo in questo progetto.